Ciao ragazzi, un saluto da Mauri e bentornati qui sul canale e come avevo anticipato siamo tornati col campionato vintage dedicato alla stagione del 1991, sono orgoglioso di portarvi questa serie, questa volta si snoderà su 10 eventi, ovviamente porterò tutti gli eventi esattamente con le date precise e ovviamente visto che su Automobilista 2 c'è la possibilità di poter rivivere le condizioni atmosferiche reali, l'abbiamo ricreato esattamente come è di prassi, oltretutto tutte le piste saranno quelle originali del 1991, ovviamente ci sarà anche in Catalunia, non è l'originale perché quello purtroppo non ce l'abbiamo nel sim proprio dedicato a quell'anno, ma comunque la conformazione senza chicane esiste ed è quella del 1991, quindi come conformazione di pista ci siamo, quindi abbiamo creato questi 10 eventi che adesso vi elencherò per data e situazione che verrà a crearsi, quindi la prima gara che andremo a fare ragazzi sarà in Brasile ad Interlagos e si verificherà il 24 di marzo del 1991, dopodiché ci receremo in Italia esattamente, andremo nella Repubblica di San Marino, quindi ci troveremo a Dimola e correremo il 28 di aprile sempre di quell'anno, per poi recarci nella terra di Charlie di Chilviner, dove saremo appunto a Montreal dove correremo il 2 di giugno sempre di quell'anno, poi saremo in Gran Bretagna a Silverstone e quindi lì correremo il 14 di luglio e poi da lì andremo ovviamente in Terra Teutonica e ci troveremo il 28 di luglio, per poi recarci di nuovo lì vicino, saremo nelle Ardenne, andremo in Belgio e lì il 25 di agosto correremo la nostro grandissimo GP del Franco Champ, per poi recarci in Italia, torneremo a Monza precisamente l'8 di settembre e poi faremo in Spagna Gran Premio di Catalunya, lo faremo il 29 di settembre del 1991 e poi saremo nella terra dei samurai, andremo appunto nella terra del sollevante e saremo lì per il 20 di ottobre per poi fare l'ultima gara in la terra dei ganguri, andremo in Australia ad Adelaide il 3 di novembre appunto di quel famoso anno 1991, ma ora senza indugiare andiamo subito in Brasile, nella terra carioca, nella terra di Hilton Senna e anche ovviamente del grandissimo Nelson Piquet e andremo a correre lì la prima gara di questo campionato e che abbia inizio Diamo fuoco ai motori! Eccoci nell'autodromo Jose Carlos Pace di San Paolo, comunemente chiamato ovviamente Interlagos, questo circuito fantastico che appunto in questa occasione è la gara del 24 marzo del 1991, pensate che nella gara reale la pole position fu presa da Ayrton Senna sulla sua McLaren Honda in 1'16 e 392, mentre invece il giro più veloce in gara fu stato di Nigel Manson a 1'20 e 4'36 sulla sua Williams Renault e vediamo il podio finale della gara reale, vinta poi ovviamente da Ayrton Senna con la sua McLaren e Riccardo Patrese, il nostro Riccardo Patrese arrivò in seconda posizione con la Williams Renault, mentre invece Gerhard Berger con la McLaren Honda finì sul terzo gradino del podio. Ma ora vediamo i nostri eroi cosa hanno fatto invece nella nostra ricostruzione storica e vediamo subito quali sono stati i risultati delle qualifiche. Ed ecco la grega di partenza, in prima posizione abbiamo Nigel Manson al bordo della sua Williams Renault e subito affiancato dal suo compagno di squadra Riccardo Patrese e addirittura vediamo qui che Mauri è riuscito con la sua McLaren Honda a piazzarsi in terza posizione e ovviamente abbiamo Alan Brosti in quarta posizione a bordo della sua Ferrari, fantastica e ovviamente ora vediamo la quinta posizione, il beniamino di casa, purtroppo si è piazzato soltanto in quinta posizione e dietro ovviamente via via tutti gli altri pronti ora ad alzare i motori. Pronti qui, gran premio del Brasile qui a Interlago stanno per partire, diamo il via a questa nuova stagione 1991 partiti tutti, vediamo subito in terza posizione parte Mauri e vediamo che riesce a mantenere la posizione in questo momento davanti dietro alle due meravigliose fantastiche delle Williams Renault ma intanto lo vediamo subito insediato qui sulla sinistra che c'è la Ferrari, quella di Alan Brost, spettacolare, lo vediamo già subito, vanno subito a imbagare i due e rimane qua ancora sulla sua sinistra, in questo momento riesce comunque ad averla meglio, lui è lì davanti, attenzione qui ora vediamo subito un attacco immediato da parte di Alan Brost che vuole subito dimostrare, determinare subito legge qui a Interlagos e i due sono affiancati, li vediamo qui che però alla fine ha la meglio Alan Brost che si mette davanti e purtroppo Mauri è costretto a rimanere in coda, ovviamente il suo nome ora sarà Mauri Berger perché come abbiamo visto abbiamo preso il posto di Berger e quindi abbiamo nominato il nostro Mauri in questo modo, ma ora rimaniamo qua, intanto dietro siamo braccati alti da Nessun Pichet che ovviamente rimane posizionato dietro, intanto qua vediamo tutte le vetture che sono tutte bellissime, veramente molto belle, con queste nuove aerografie veramente fatte benissimo, queste nuove livree, ho notato anche i caschi, sono stati tutti bellissimi, sono esattamente quelli originali, ma intanto rimaniamo qua ancorati alla gara, siamo in questo momento appunto secondo giro, intanto qua si avvicina Maule da Lemprost e cerca subito di prendere la posizione, ma vediamo se riesce in qualche modo qua a poter magari scalfire la potenza di tale codesto pilota, ma ora vediamo, qui va a prendere di tutta la scia, vediamo qua se cerca un attacco, si guardano e si sfidano i due e qui Mauri cerca quasi di mettere le ruote davanti, ma attenzione, la spallata di Lemprost si è fatto sentire la presenza, siamo tornati nel 1991 quando le spallate erano l'ora, era ordine del giorno, altro che spaventarsi per un po' di scaramuccia, questa era la vera Formula 1 ragazzi, questa è la Formula 1 reale, quella dove c'erano le batoste, altro che, comunque ora rimaniamo qui, dai vediamo i due che intanto qua Mauri ha perso tantissimo terreno, è rimasto indietro, purtroppo non ci è voluto, qua ha perso proprio parecchio, intanto dietro comunque rimane braccato da Nelson Piquet e Michael Schumacher, intanto di davanti vediamo Patrese e Mansell che stanno facendo una gara assistente, stanno facendo dei tempi veramente molto molto, sono proprio su un altro pianeta i due della Williams, ma intanto vediamo qua a sfrecciare sul rettilineo, sulla parte ovviamente del gruppo, vediamo qua che è fantastico, intanto ecco vediamo un po' qua, ci inquadrano le due Williams di davanti che fanno bagare, abbiamo Nigel Mansell in testa alla gara seguito da Riccardo Patrese che i due qua cercano ovviamente di darsi battaglia, fanno una gara a sé stante i due qui e intanto vediamo Patrese, il nostro Riccardo Patrese che cerca di fare un attacco qua su Nigel Mansell, sul Leone Baffuto e qua attenzione riesce a mettergli le gomme davanti e ci prende la prima posizione, intanto torniamo indietro qua, stiamo tornando su Mauri, vediamo intanto slittiamo ovviamente alla quinta, al quinto giro perché purtroppo non è più capitato nulla di particolare, ma ora qua addirittura slittiamo al sesto e siamo pronti per andare a fare il nostro pit stop, ovviamente ricordo che il pit stop prevede sia il cambio di gomme e anche il ripiemento di benzina come era ovviamente in quel periodo, intanto vediamo il tempo comunque continua a rimanere questo nuvoloso, speriamo noi in pioggia in realtà il tempo durante la gara originale appunto era questo, il nuvolo, un pochettino di umidicio ma non c'era prevista pioggia, quindi dovremmo rimanere in questa posizione, ora vediamo qua siamo al cambio, abbiamo fatto il cambio gomme, rientriamo ora, vediamo qui davanti abbiamo un certo Alex Caffi, che lo conosciamo già un vecchio, attenzione qui addirittura sbanda tutto da solo e qui Mauri a momenti rischia addirittura di andare a prenderlo, mamma mia, lui si gira e intanto qua appunto, adesso vediamo se riusciamo a fare girare le gomme, intanto Patrese va anche lui ai box, vediamo intanto in questo momento c'è appunto il carosello dei vari box da fare e qui siamo ovviamente all'ottavo giro addirittura siamo, ricordiamo che ci sono 13 giri in totale, ma ora qui slittiamo avanti, andiamo al decimo giro, c'è stato un grandissimo problema per Riccardo Patrese che ha avuto grandissimi problemi, si vede che la gara con Mansell, vedete addirittura qui ha di nuovo perso aderezza e sembrerebbe che sia addirittura indietro di un giro o forse addirittura due perché ha avuto grandissimi problemi, ha dovuto fermarsi al pit stop e ha perso due giri, ma intanto vediamo qua, però lui ovviamente non ci sta, nonostante sia indietro, comunque deve recuperare posizioni e qui cerca addirittura di insediare Mauri e cerca di riprendersi la posizione su di lui, ma anche se indietro vuole assolutamente in tutti i costi far valere la sua potenza, la sua magnificenza come pilota e come vettura e qui cerca di insediare Mauri, ma intanto ovviamente questa è una situazione anche diciamo di disagio da par Mauri Berger perché ovviamente è costretto a una bagarre forse anche inutile, attenzione qui addirittura di traverso e lo costringe a queste situazioni che sono veramente un po' al limite, ma ora vediamo qua addirittura si fa vedere e sbeffeggia di brutta maniera Mauri Berger qui Patrese vuole comunque nonostante tutto far vedere la sua soprenanzia, ma qui Mauri non ci sta, cerca un attacco, la parte interna riesce a mettersi di nuovo davanti a Patrese, mamma mia, ora vediamo qui, mamma mia ragazzi che situazione, intanto vediamo siamo comunque all'undicesimo giro, mancano due giri alla fine, ora c'è tutto il gruppone dei pit stop, vediamo se riusciamo a recuperare delle posizioni, ma intanto qui dietro non molla niente Patrese vuole comunque far bella figura, riportarsi sotto e intanto qua sotto il pubblico del Brasile passa sul traguardo Mauri e si riporta addirittura in terza posizione ma qui lo insidia e cerca, lo porta allo sbaglio quasi, ma intanto lì davanti abbiamo Alain Proff che conduce la gara, il primo posizione è seguito da Mauri che in questo momento è in seconda addirittura, perché ovviamente c'è il pit stop di Senna e ovviamente anche il Beniamino di casa che è partito in quinta posizione, ragazzi in questo momento si trova in terza posizione, quindi oh qui ora slittiamo, siamo all'undicesimo, siamo all'undicesimo giro, intanto qui dietro abbiamo, oh ragazzi è arrivato anche Senna e c'è sempre Patrese ma qui davanti a noi abbiamo un doppiato in questo momento che ci può dare fastidio, attenzione no, ci lascia passare, meno male, e intanto qui mamma mia ne ha approfittato anche Senna, Senna si trova, ha superato ovviamente Patrese e qui attenzione, duello tra le due meravigliose William McLaren Honda, delle due vetture fantastiche che abbiamo qui davanti a noi, ora vediamo qui se riesce in qualche modo Senna a prendersi la posizione sotto il pubblico di casa, quello incita, sentite il voato incredibile della folla e intanto qua i due vediamo si è messo davanti e qui Mauri non ci sta, cerca di ripetersi la posizione, qui oh addirittura una scorrettezza da parte di Mauri, si sono toccati con le gomme, intanto qui si rimette in seconda posizione Mauri e Senna ovviamente non ci sta, purtroppo è stato toccato, non è proprio stato un'azione proprio limpida da parte di Mauri in questo momento, ma qui attenzione, siamo al penultimo giro, intanto qui slittiamo avanti, siamo proprio di nuovo sulla parte del rettilineo finale, vediamo un po' qua, ecco qua siamo al penultimo giro, intanto qua si fanno vedere, mamma mia ragazzi che incertamento, qui di nuovo Senna davanti al suo pubblico, passa davanti a tutti e il voato della gente si fa vedere, ma intanto qui Mauri ora cercherà ovviamente non di fare come prima, ovviamente un po' di riverenza in confronto del campione e qui si tiene dietro, ma intanto rimane in terza posizione, intanto un giovane Michael Schumacher inizia a farsi vedere, lo vediamo dietro gli specchietti che cerca anche qua lui di insediare in qualche maniera, è davanti addirittura ha passato il suo compagno di squadra Nelson Piquet e ora vediamo qui in questa situazione se Schumacher magari riesce a insidiare Mauri, ma in questo momento se rimangono così le posizioni, vediamo davanti, abbiamo Alan Prosti in prima posizione, seconda posizione per Ayrton Senna in casa e terza posizione per Mauri Berger, se questa è la conclusione di questa prima gara sarebbe fantastico, ma ora rimaniamo concentrati qua, attenzione a non avere problemi personali, proprio di girare la vettura, ovviamente ricordo sempre che qua siamo a cambio a manuale e ovviamente quindi con tutte le difficoltà del caso, soprattutto ancora nel caso di Mauri Berger, ma qua, ora, sfrecciano le macchine e si stanno dirigendo verso la parte finale, siamo proprio in ultimi sgoccioli, le ultime curve, prima di arrivare qui sul rettilineo del Brasile a Interlagos, vediamo intanto le vetture che sfrecciano e qui ovviamente sul secondo posto Ayrton Senna va a concludere la gara e qui Mauri riesce, Mauri Berger a mantenere la terza posizione, scuote il volante e riesce a portarsi a casa questo foglio! E questa gara si conclude con Alan Prosch che va a prendere i suoi primi punti, i suoi 25 punti, Erton Senna 18, Mauri 15, Michael Schumacher 12, messo un picco e 10 e via via tutti gli altri, ovviamente ragazzi purtroppo non ho potuto fare i veri punti che si davano nel 1991 perché questa possibilità non c'è, quindi ho mantenuto il punteggio regolare che c'è oggi nella Formula 1. Bene, questo è quello che riguarda i punteggi e ovviamente poi andiamo anche a vedere ciò che riguarda ovviamente dopo questa gara, ovviamente per l'ora non ci sono ancora altre situazioni di sorta e quindi pian piano vedremo poi la classifica in che direzione andrà. Bene ragazzi, io spero che questa prima puntata di questa stagione di Formula 1 del 1991 vi sia di gradimento e vi aspetto per la prossima gara che si svolgerà a San Marino, quindi andremo appunto in Italia nella Repubblica di San Marino a Di Mola e quindi con questo io non posso altro che salutarvi, rinnovarvi ovviamente un like, un'iscrizione al canale che supporta tutto questo lavoro e tutta questa passione che cerchiamo di vivere insieme. Con questo è tutto e ci vediamo alla prossima, ciao da Mauri!